bene amici vi faccio un video insolito abbiamo appena finito di cenare voglio lavare i piatti stasera mi prende così bene allora la paglietta l'acqua è aperta voglio lavare stasera il mio tour lo trovarlo io stasera la paglietta 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 Grazie a tutti. Come vedete i tassi di bicchiere riposati ce n'è un'avvendanza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.